Salve, buon pomeriggio Sì, lei è un nuovo paziente? Me l'aveva riferito questa mattina la mia segretaria Sì, piacere mio Allora, prima di... Io non so se lei è venuto qui per farsi registrare Così apriamo la cartella clinica E anche qualche domanda dopo tutto stato di salute Benissimo, allora intanto la registro Mi dica tutti i dati E poi, sì, poi faccio una visita, giusto? Un check-up di base Sì, e poi vediamo un po' Va benissimo Allora, iniziamo subito Mi dica innanzitutto il suo nome Sì, apro intanto il file Ok Ok il cognome Ora mi dica l'età Il peso e l'altezza Si è pesato recentemente? Ok E l'altezza L'altezza L'inserisco Subito, ok? Ora Sì, ora passiamo a I dati per quanto riguarda la sua residenza Il suo domicilio, ok? Allora, la via Ah, è di qui, sì L'avevo capito dalla strada Non abitiamo neanche così lontano in realtà Ok Anche il gap lo posso inserire tranquillamente io Senza chiederlo Ah, ho dimenticato però di chiederle il codice fiscale Se non lo ricorda Attento che prenda Che prenda Ok, sì Anche sulla tessera sanitaria Ok Ok, mi dica pure Sì, sì Adesso abbiamo appena aperto Una nuova cartella Sì, sì Lo so, lo so Mi è stato riferito Che ha fatto questo cambio Quindi per questo Sì, avevo bisogno di tutti questi dati E vediamo Non manca nient'altro Se non erro Sì, il codice Il numero di telefono Se può darmelo Ok Perfetto Quindi abbiamo completato Le chiedo però Prima di iniziare la visita Così scrivo anche questo Prima di Tralasciare per il momento Questa cartella Li volevo chiedere Se ha da segnalare Patologie Sì Ok No, no Non c'è bisogno Allora No, no Patologie tipo Esatto Diabetes Se è cardiopatico Ok Tutto a posto Benissimo Quindi Le domande Che mi vuole fare Le riserviamo Come le ho detto Dopo la visita Che è veramente breve Giusto? Perché Sì Giusto Il check up Di base Come le ho detto Ok Così Segnalo Tutto Mi trascrivo tutto Sempre nella sua cartella Così ho tutte 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 Le informazioni Di base E poi Mi fa Mi può fare Queste domande Spero di Darle Una Una mano Allora Un'ultima cosa Prima di passare Alla visita Se mi vuoi riferire A Di allergie Particolari Ok Solo Al polline Sì Questa è una delle stagioni È la stagione Clou Per chi è allergico Come lei La capisco Perché mia madre Se ne soffre molto Ha già Il suo antistaminico Che prende regolarmente Le devo segnare Qualcosa Ok Sì Sì Si trova bene Benissimo Allora Continui con Ad assumere Questo qui E quindi Ok Registro Quest'ultima cosa Va benissimo Sì È importante Saperlo Anche nel caso In cui appunto Io devo segnare Le telemedicine Almeno so Sì Ma se pure Principi attivi Che cosa Perché poi ovviamente È pericoloso Ok Allora Iniziamo subito Con la visita Innanzitutto Mi Igenizzo Le mani Ok Ho messo un po' troppo Ma è meglio Abbondare Ok Si avvicini pure Nel frattempo Può togliere La maglia Sì Così posso visitarla Lo so Sono delle bellissime Giornate In effetti Però Per chi ha Questo tipo Di allergia Non è il massimo Dispiace molto Non le provoca Però Troppo Sono densa Questo antistaminico Qui Vero Meno male Eh sì È famoso Per Dare In meno Problemi Sotto questo Punto di vista Sì Qui continui Con questo Certo Benissimo Allora Ora faccio Dei bei respiri Benissimo Così Ok Adesso si giri Che controlliamo Anche le spalle Sempre respirando Molto profondamente Benissimo Ora faccio Un colpo di tosse Ancora Ancora Benissimo Molto bene Adesso Ricontrollo La saturazione Con il saturimetro Anche questo L'esame È semplicissimo Ma Si siamo un po' Tutti abituati Facendo Ecco qui Metta pure il dito Inserisca il dito Esatto In questo modo Vediamo La controllo La controllo Abitualmente Eh si Ok Vediamo Perfetto Perfetto Ok Adesso Controlliamo La pressione Lei Generalmente La misura La misura Si controlla Bene In estate Prende qualche Integratore Ok Allora Vediamo un po' Adesso che è primavera Come sta la soppressione Sì Sì è fisiologico Sia tranquilla Ecco qui Lo rimetto Ok Sì Lo stringo Ecco Si scopre il braccio Esattamente Ok Vediamo un po' Sì sì Stia tranquillo Seduto Sì Ok Io di solito Mi sono due volte Tendi un attimo Ok Vediamo un po' La minima A posto Benissimo 120 75 Va benissimo Certo La pressione Va interpretata Anche in base All'età Certo Allora Aspetti che Mi riconosco Benissimo Ora diamo Una Controllatina Di orecchie Sì Aspetti che Mi aggiusto 5 Ok Perfetto Sinceri Si si rimette Pure la maglia Ovviamente A posto Si avvicini E si giri Verso di me Giri Il suo orecchio destro Verso di me Vediamo Ok Perfetto Ora Ora l'altro orecchio Ok Benissimo Tutto A posto Pulito Ok Adesso Come ultima cosa Si Voglio vedere un po' La gula Avrò Avrò bene la bug Ok Avrò Avrò Sì infatti Ho L'apertura un po' Piccola Per aiutarmi Prendo Prendo questo Pastaccino di legno Aspetti Con i manti È complicato Ok Ora Ora Cacci bene la lingua Avrà la bocca Ok in questo modo Ok Vediamo un po' Si rimanga così Si rimanga così Con la bocca aperta È stato operato Le tazze Ok 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 Tutto Posto Si Ora Vediamo un po' Anche sotto la gula Si Gli infonuti Sono Ingrossati Vediamo Alzi un po' Il viso Così Ok Sì Lei le sente Cofie Perché Queste si chiamano Chiandole Sentinella Queste si chiamano Chiandole Sentinella Esatto Quindi si ingrossano Quando C'è un po' Di infezione Infiammazione Anche quando Se tiriamo Molare C'è un maliottente Si possono Ingrossare Queste Chiandoline Che abbiamo qui Quindi Quindi Vediamo un po' Ok Ok Tutto a posto Tutto a posto Ok E abbiamo controllato Tutto Quindi io direi Voglio registrare un attimo La sua pressione Almeno Saturazione Così ricordiamo i dati Per la prossima volta È tutto registrato Rimarrà Nella sua cartella Ok Allora Mi dica pure Sì Voleva Farsi prescrivere Qualche vitamina In particolare Perché A A quanto risalgono Le ultime analisi A qualche mese fa Aveva la vitamina D Un po' Bassa Ma Non le ha dietro Queste analisi Le ha qui Benissimo Ah ecco Vediamo un po' Ah le ha fatte Un mese fa Benissimo Vediamo un po' Allora L'emocromo Completo Tutto Tutto Posto Vediamo un po' Qui Ha noto una carenza Da vitamina D Ah capisco Vediamo un po' Si sentiva un po' Sì Diciamo che uno dei sintomi E' proprio quello Ha fatto bene Controllarla Ok Per il resto Tire tutto a posto Sì Prende spesso Il raffreddore Ha le difese immunitarie Un po' Carente Un po' Bassine Allora Facciamo così Io innanzitutto Vorrei consigliarle Questo Questo complesso Di vitamine C D3 E zinco Che lo zinco E' molto 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 importante Si sono due capsule Da prendere al giorno Siccome lei Carente di vitamina D Associamo anche Lo zinco Che è molto importante Per le difese immunitarie E la vitamina C Che anche se esatto Questo qui Per il fabbisogno giornaliero E' molto buono E' molto buono Questo tipo di integratore Sì Sì Infatti le scrivo Non prescrivo Perché non c'è bisogno Della prescrizione Della ricerca Esatto Quindi Ok Poi Ok Questo quando ne capita? Ah Già fatto una gastroscopia Bene Sì E' molto comune Devo dire Piccoli problemi Di reflusso Sì Diciamo che Non è niente di preoccupante Però Se lei mi dice Che già aveva questo problemino Due anni fa L'ha fatta due anni fa Quello Di la gastroscopia Bene E non è stato rilevato Nulla di che Sennò un po' di acidità Un po' di reflusso Allora Facciamo così Intanto le posso Suggerire Anche per questo Non c'è bisogno Di ricetta E ti assicuro Che Sono Sono ottime Queste bustine Qui Da prima Non è una cura Ma queste qui Esoxone Serve Sia per il dolor Ibi gastrico Sia per Il reflusso Gastroesofageo Oppure Per l'esofagite E Devo dire Sono molto utili Di uso anch'io E Che fanno loro dovere Molto di più Di quelli lì In commercio Esatto E E' un gel Che contiene anche Acido Ialuronico Dopo i pasti All'occorrenza Non è una cura Dopo i pasti O prima di andare a dormire Prenda una bustina Cioè dire Vi do Vi do Questo campioncino E ovviamente Il pacco Ne contiene Molti di più Vi do Questo campione Eccoli qui Che Ne contengono Tutto Stato E dentro Così lo prova Se le piace Vai in farmacia Lo acquista Glielo scrive Anche questo Come le ho detto Non ha bisogno Di Nessuna Prescrizione Si iniziamo così Poi si vede Che Non cambia nulla E comunque La situazione Peggiora Ovviamente Può viene qui E le segna Una gastroscopia Ok 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 Stila Ok Ok Tutto Tembro Sì Ok Ok ecco lei sono contenta io spero che sia trovato bene e le auguro una buona giornata e mi fa sapere anche certo come si è trovato ma mi può anche chiamare così mi dice un po' va bene, spero che sì, queste cose spero che bastino per risolvere questi fastidi va benissimo grazie a lei, buona giornata buona giornata a presto